amiche amici bianconeri buongiorno bentrovati buon venerdì 18 giugno come da immagine di copertina non posso cominciare questi tre gran minuti dedicando ovviamente il ricordo ad una persona straordinaria ad un uomo che per la juventus ha dato tutto che dalla juventus ha ricevuto tanto ma che certamente incarna impersonifica lo stile e lo spirito bianconero come pochissimi altri sicuramente come i suoi compagni di viaggio oggi a tutti gli effetti perché era l'ultimo rimasto di quei quattro personaggi che in copertina vedete come giovanni agnelli dottor umberto agnelli e l'avvocato chiusano che attorno a quella panchina rappresentavano davvero l'essenza della juventus ora la rappresenteranno probabilmente in paradiso ci ha lasciato questa notte giampiero boniperti all'età ormai di 93 anni li avrebbe compiuti il prossimo 4 luglio un uomo che davvero rappresenta quando lo si menziona la juventinità la juventus lo stile e davvero il rispetto che questa persona e questa società legati insieme manifestavano e soprattutto ricevevano nel mondo giampiero boniperti un uomo famosissimo per la sua frase vincere non è importante è l'unica cosa che conta ma non solo per le presenze le presenze i gol la dedizione alla causa bianconera ed anche della nazionale un uomo pacato educato sensibile un uomo che per ripeto i colori bianconeri ha speso davvero la propria vita onorandola sempre e onorandoli sempre con il più alto valore il massimo rispetto si possa portare ai colori di una società che ti è entrata dentro e che a noi di riflesso grazie anche a persone così evidentemente ci è entrata nel cuore con giampiero boniperti dopo l'avvocato giovanni agnelli dottor umberta agnelli e l'avvocato chiusani si chiude davvero un'era storica un'epoca l'essenza della juventus che ho voluto rappresentare in questa copertina doverosa a fronte di una notizia così evidentemente triste e che non avremmo voluto ricevere andiamo avanti perché si deve proseguire tempo di mercato ne stanno succedendo in continuazione non solo attorno al mondo bianconero ma di riflesso anche al mondo bianconero perché è notizia di quest'oggi della trattativa praticamente conclusa c'è chi lo aveva dato come affare fatto a testimonianza del fatto appunto scusate la ripetizione che questo mondo del calcio mercato così affascinante può regalarti anche queste brutte sorprese affari praticamente conclusi con firme già praticamente depositate che saltano per un non nulla nella fattispecie parlo di Giannaro Gattuso ormai prossimo allenatore degli Spurs per un biennale che gli sarebbe stato sottoposto dal club britannico e che invece per la rivolta della tifoseria del Tottenham salta e quindi lascia un po' in braghe di tela lo stesso allenatore che si era separato non più tardi di ieri dalla Fiorentina e che ovviamente comporta anche eventuali variazioni su quelle che potevano essere delle trattative da instaurare con il club bianconero. Ne avevo parlato ieri sera su Twitter la prodo sulla panchina del Tottenham di Gennaro Gattuso avrebbe potuto facilitare un'operazione quella relativa a Federico Bernardeschi che già l'allenatore aveva sponsorizzato per quale ritorno in maglia viola per la Fiorentina e che avrebbe eventualmente avuto maggiori probabilità di successo sulla sponda londinese del Tottenham perché chiaramente l'autoingaggio percepito dal bianconero era sicuramente maggiormente sostenibile dal Tottenham che non dalla Fiorentina. Questa è un'operazione che non decollerà, bisognerà capire a questo punto quali altre possibilità possono andare a intaccare il giocatore che pur Massimiliano Allegri non ha posto in cima alla lista dei partenti a differenza di quanto invece è avvenuto con Aaron Ramsey giocatore che ha ben figurato nel corso della partita ultima del Galles qui agli europei ma che non rientra più nei piani della Juventus e dell'allenatore. Ramsey che a differenza di quanto lo avevamo dipinto precedentemente è disposto ad assecondare il volere della Juventus di separarsi per ovviamente obiettivi comuni Ramsey di ritrovarsi e di giocare in un campeonato più consono alle sue caratteristiche la Juventus di trovare qualcuno diciamo in grado di offrire maggiori garanzie soprattutto da un punto di vista fisico ma anche tecnico Ramsey che invece pare essersi un po' messo così di traverso sì volenteroso di rientrare in Premier League ma non di assecondare in maniera così semplice e semplificata la separazione dai bianconeri bianconeri che sono alla continua ricerca di una chiusura della trattativa che dovrebbe portare Manuel Locatelli in bianconero trattativa che allo stato attuale non mi sembra abbia subito alcun tipo di frenata o di ostracismo da parte del Sassuolo si cerca la contropatrita interessante per i bianconeri che nel frattempo hanno sottoposto un rinnovo contrattuale di un anno al portiere Carlo Quinsoglio che dovrebbe rimanere così ad essere il terzo nella rosa di Massimiliano Allegri figura importante perché come già più volte sottolineato Carlo Quinsoglio rappresenta la figura del CTP che quindi non va ad occupare spazio nelle liste Champions a chi ovviamente chiede ma questo CTP cosa significa significa letteralmente club trained player ovvero giocatore cresciuto nel vivaio quindi all'interno del club e quindi proprio per questa figura per questo status di CTP non occupa spazio nelle liste Champions e consente l'inserimento fino a un massimo di 25 di giocatori in lista nella lista appunto della Champions altre situazioni che vedono la Juventus impegnata sono quelle alla ricerca di un secondo centrocampista come detto più volte in cima alla lista dei desideri Tolto Locatelli di cui se ne parla e se ne è parlato rimane la figura di Paul Pogba che va a contrapporsi in alternativa a quella di Yuri Tielemans di cui Paolo Nomollo sulla sua pagina Facebook ne parlò ora stanno emergendo e stanno uscendo in notizie in merito e attorno al nome del giocatore che ovviamente il Leicester non vorrebbe far partire ma sul quale non pone il veto assoluto Leicester per il quale potrebbe intavolarsi eventualmente una trattativa ma questa solo nel caso in cui l'obiettivo numero uno Paul Pogba non dovesse essere centrato intavolerebbe una trattativa volentieri anche attorno al nome di Mary De Miral che come sapete ha chiesto alla Juventus maggiore garanzie la Juventus che altrettanto dovreste sapere quando un giocatore manifesta così la volontà di o il malcontento soprattutto il malcontento qualche mal di pancia non si oppone mai a certi trasferimenti dovesse trovare la situazione per realizzare oltretutto una buona plusvalenza ecco che Mary De Miral potrebbe diventare una pedina importante anche sul fronte Leicester in ottica eventualmente contropartita oltre al cash che sarebbe inevitabile dover sganciare nei confronti del Leicester stesso per il centrocampista belga Tielemans sul fronte attaccanti ve lo confermo ve lo ribadisco i nomi attualmente sul taccuino della dirigenza bianconera restano quelli di Icardi quelli di Gabriel Jesus per un'operazione da svilupparsi eventualmente in prestito e quello di Vlaovic che è uno dei nomi principali fatti da Massimiliano Allegri per da porre al centro dell'attacco bianconero io vi continuo a ribadire che per quelle che sono le mie informazioni non c'è la volontà della Fiorentina di privarsi del giocatore in questa sessione di mercato giocatore che però in virtù delle proprie ambizioni del proprio valore dovrebbe lasciare la Fiorentina nei prossimi anni probabilmente già a partire dalla prossima stagione qualora confermasse quanto di buono manifestato in questa appena conclusa la Juventus vuole essere in prima fila la Juventus che sta sondando il terreno anche grazie ai buoni uffici ormai ristabiliti con la società Viola per avere una sorta di prelazione nel momento in cui la Fiorentina decidesse di separarsi dal giocatore a chi evidenzia l'interessamento da parte della Fiorentina del giocatore dello Stoccarda l'attaccante dello Stoccarda è un giocatore che ha caratteristiche differenti da quelle di Dusan Vlaovic è un giocatore che ricopre il ruolo di esterno preferibilmente a sinistra e che quindi non va a precludere il fatto che arrivando in Viola a Firenze la conseguente partenza del giocatore ambito dalla Juventus fa però detto e qui invece secondo me bisogna porre l'attenzione che il Tottenham qualora si separasse da Harry Kane ecco lì ci sarebbe l'interesse di Fabio Paratici per il giocatore Dusan Vlaovic bisogna fare attenzione perché a quel punto il Tottenham avrebbe del denaro cash da poter investire sul mercato denaro che potrebbe fare molto gola alla Fiorentina e a quel punto la situazione potrebbe complicarsi in orbita in ambito bianconero vediamo nei prossimi giorni quello che saranno gli sviluppi continui intorno al mercato che non dorme ma che non decolla perché non dimenticate che nessuna delle big europee ha ad oggi tolto lo ripeto Barcellona e Paris Saint Germain con due colpi a parametro zero messo a segno colpi importanti lo stesso Donnarumma che deve sostenere le visite ormai da diversi giorni la cui ufficialità doveva arrivare già oltre una settimana fa è ancora lì in ghiacciaia non ha ancora concluso il proprio trasferimento in via definitiva per il Paris Saint Germain occhio perché come Gattuso sembrava affare fatto al Tottenham tutto nel calcio mercato può cambiare da un attimo a quell'altro ragazzi lasciatemi i vostri commenti qui sotto vi do appuntamento ai prossimi tre gran minuti a voi in una buona giornata e il mio ricordo ancora va a Giampiero Boniperti al quale ovviamente non posso che sottoscrivere un riposo in pace ciao ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao